Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, oggi parliamo di calcio ma di brutto, parliamo di calcio con chi gioca a calcio, parliamo di calcio con chi sa di calcio, parliamo di calcio con chi ha gli sviluppi in testa del calcio, parliamo di calcio con chi, lo scopriamo oggi, giocherà o non giocherà al derby giornalisti, perché la partita non è quella di sabato e nemmeno le partite di domenica. La partita vera si gioca di giovedì, iscrivetevi al canale, un bel like al video, i commenti e la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Giochi giovedì il derby giornalisti, Don Camillo? Ciao Claudio, sì gioco, c'è stato un corteggiamento importante da parte di Antonio Paolino che ha deciso di stravolgere la programmazione di Radio Bianconera per farmi scendere in campo. Eh infatti io ho rinunciato proprio per raccontarla da studio e farti giocare, anche perché già stiamo con gli assenti, Alberto Mauro mi si è infortunato di brutto e quindi già ci manca l'esperienza. E' il derby dei giovani, è il derby dei giovani, i giovani Camillo, questo grande punto di domanda, perché usciamo da una partita clamorosa di Champions League tra il Real Madrid e il Manchester City, dove? Dove? Attenzione, perché il solito dilemma, il gioco, il non gioco, quell'allenatore, quell'altro allenatore, come gioca Allegri, come non gioca Allegri, come gioca Ancelotti, come gioca Guardiola, come Gerard e Palladino. Eh ma voglia... Ah! È un macello, non si capisce più niente. Ancelotti però dice che quello che conta è la qualità che c'è nel campo, mentre Guardiola dice che è la pessima qualità del campo di gioco del Real Madrid, che se ne avesse detto un Mazzarri, un Sarri qualsiasi, apri di cielo, invece l'ha detto Guardiola, allora capito, è passato un po' inosservato. Senti, Real Madrid, partita di Champions, Manchester City, a parte che sono le ultime due finaliste, vincitrici della Champions, quindi cosa ci dice? Perché tutti adesso vogliono quella roba lì, il calcio antico della Juve, è pessimo, noi andiamo verso il calcio moderno. Per fare quella roba lì basta dirlo o ci vorrebbero magari anche gli interpreti, non lo so, chiedo, è una semplice domanda. No, basta, in questo momento basta guardarlo, perché per capire che non è possibile attuare un gioco del genere. Cioè il gol di Foden si è rimasti impresso, no, lui che la mette all'incrocio dice Foden, perché tutto il resto intorno era brutto. Il passaggio ai mille all'ora, uno o due tocchi, lo sviluppo dell'azione, cinque minuti dopo il stesso palla, era tutto brutto. Guardiol pagato quanto? Quattro, cinque euro al mercato che fa un gol da mediano, perché fa un gol da mediano trequartista che la mette a fil di palo. Ecco, probabilmente l'unica cosa terribile della partita è stata la difesa del City nell'occasione del secondo gol, perché poi ho visto l'Italiano essere criticato per molto meno nella finale di Conference League con la difesa alta da rinvio, quando poi il City era tutto nella metà campo del Real al quindicesimo. Però Claudio, per me questo deve far capire una cosa e so che mi farò arrabbiare tantissime persone, che lo scudetto può essere il prossimo anno un obiettivo o qualcosa in cui credere. La Champions League è qualcosa che devi vivere, perché devi vivere, questa finale di stagione ci deve portare alla Champions League, ma dopo il girone e dopo tutto quello che succederà, se arrivi alla fase finale, allora ok, sei stato già bravino, perché questo è uno sport che la Serie A non sta facendo. Ne non farà per i prossimi anni. E voglio che sia chiaro, perché poi sentivo Emma Pintus... Mi sembri un po' Antonio Conte con questa dichiarazione. Pintus è stato alla Juve, è stato all'Inter, eppure non è che ha trovato finali di Champions, cioè ci sono dei giocatori che fisicamente sono degli atleti e tecnicamente sono delle superstar, perché Bellingham abbina tutto, Vinicius abbina tutto, Rodrigo abbina tutto, Ciomeni, 100 milioni può fare il difensore centrocampista, Camavinga uguale. Dall'altro lato, te ne ho citati un paio che possono fare anche i 400 ostacoli, direi che l'unica cosa che non invidio a queste due squadre è la preparazione atletica, invidio la tecnica, invidio la velocità con cui corre il pallone, e ti dico anche un altro dato, il City non fa cambi, dà un paio d'anni a questa stagione, gioca talmente bene tecnicamente che non fa cambi. Quando corri tanto, poi fai i cambi, quando fai correre il pallone, non fai i cambi, e chi fa correre il pallone? I giocatori di talento, i giocatori di classe. Quindi scusa, io ti chiamo Don Camillo per tirarmi sul morale, per avere delucidazioni dal punto di vista tecnico, e tu mi disintegri, mi massacri, mi riporti nel mio mondo, piccolo mondo antico fatto di tattica e di strategia. Nella scorsa puntata della nostra rubrica ti sei lanciato verso questo paragone, diciamo cambiaso alla De Bruyne. Oggi cosa vuoi fare? Mi vuoi lanciare un Locatelli, 21 tocchi, 10 passaggi sbagliati alla Pirlo? Cosa vuoi fare oggi? Ma diciamo che quello è un dato un pochettino difficile da interpretare della Juve, perché abbiamo fatto 190 passaggi, quindi più o meno il 20% li ha fatti i Locatelli, ma questa è un'altra cosa che secondo me se leggi nei dati, nei numeri, per me non è un dato interessante, voglio essere onesto, perché poi guardo la Fiorentina ne fa 600 quasi di passaggi, ma che noia! Cioè quando Sarri è venuto alla Juve per fare 600 passaggi, io sento tante di quelle critiche a Sarri che si salvi chi può. Cioè la Fiorentina andava a destra-sinistra, a destra-sinistra, a destra-sinistra, ha fatto un tiro ma da fuori. L'unico tiro in cui Parascesni è poi un tiro da fuori. Aspetta, Camillo, ferma tutto, ferma tutto, perché tu qua vuoi evadere la discussione, invece la discussione è continua nel nostro mondo bianconero. Io adesso, allora, io faccio la domanda diretta, ma voglio una risposta diretta dal calciatore, Camillo De Michelis, che non solo gioca a calcio, ma osserva il calcio in tutta Europa. E allora, mi vuoi dire cos'è sto calcio moderno? Perché se è quella roba lì, poi non ci va bene, se è quella roba là non ci va ma bene lo stesso, se la fa Allegri è antico, però se Italiano e Sarri vogliono fare il possesso non va bene, vengono criticati. Cos'è sto calcio moderno? Cos'è? Ma il calcio moderno, Claudio, secondo me è l'investimento. Tu compri i giocatori migliori, compri o compri o hai, scegli gli allenatori migliori, e tra questi in Europa ti metto anche Allegri, perché poi Ancelotti ti parla chiaro, cioè era finito all'Everton, il Napoli sembrava di averse preso l'allenatore finito, e poi però ti vince una Champions League, il Real Madrid è una squadra bella da vedere, perché le superstar poi ce le hai in campo, è come tratti il pallone, è come capisci quando devi correre, come devi correre. Ragazzi, ma il gol di Valverde, ma io se ci provo 100 volte, mi spacco il piede 4, la tiro fuori dallo stadio 30.000 e buco la palla 14 volte, cioè massimo una volta prendo il portiere ma non con quell'effetto. Cioè il gol di Valverde è uno spettacolo, le azioni che ha fatto Guardi, o il Foden, la velocità degli interpreti, il calcio è veloce, è moderno, perché non sono più gli atleti di una volta, che il numero 10 non correva perché c'era il 4 che correva per lui, adesso il numero 10 corre, difende, attacca, imposta e fa il regista, il numero 7 Vinicius, attacca, fa il contropiedista, litiga, dribbla, salta, cioè ha fatto un'azione dove le ha saltati tutti, tutti e nell'altra, perché poi abbiamo visto anche un'altra parte a livello molto alto. Ma scusa allora, ma allora perché noi continuiamo a fare tutta questa filosofia ogni giorno? Cioè se è come dici tu, e guarda che io ti seguo, molto volentieri, perché a figurativo sono un antico, però se è come dici tu, allora basta avere la disponibilità per fare un mercato allucinante, e io vinco, che problema c'è? Però perché noi andiamo a intestardirci in tante determinate situazioni, cioè quando si parla di Tiago Motta, esempio Claudio, tu sai qual è, anzi, hanno mai detto qualcuno che parla bene di Tiago Motta? Io onestamente mi prendo dei meriti, perché seguo Tiago Motta veramente a tanto tempo, cioè sono un grande ammiratore del suo percorso in generale anche da calciatore, e ti dico qual è la caratteristica del Bologna principale? E in pochi mi hanno risposto poi correttamente la caratteristica del Bologna, e dire ok vieni, vieni, vieni da Skorupski, vieni, vieni a pressarmi il portiere, ok io lancio Zirzè, Zirzè su una palla alta te l'addormenta, e poi da lì al posto che diventare una situazione dove sei in svantaggio, perché se ti prestano alto sei in svantaggio e rischi, ma sei in una situazione in vantaggio perché arrivano tutti da dietro. Ma questo è lo schema Anderson, questo è lo schema del Bologna di quando ero piccolo io, dai. Aspetta, ma la Juve, ti faccio un esempio, la Juve, il primo tempo con la Fiorentina, come ha giocato? Cosa ha fatto? Venite a prendermi, venite a prendermi, ok andiamo su Vlaovic, Vlaovic gioca perfettamente di sponda, le mezzali e l'esterno cambia, si entra dentro il crampo e tu vai in porta, poi lo puoi fare bene, lo puoi fare meno bene, puoi avere dei giocatori che magari ti fanno una giocata, un'altra giocata, ma ci sono delle evoluzioni che vanno fatte. In Italia noi poi ci autocombattiamo, perché noi in Italia abbiamo le perdite di tempo, e allacciamo le scarpe, fischiamo falli a valanga, e poi se gioca la Juve almeno partiamo da 3-4 ammunizioni a partita, a prescindere, e quindi il ritmo del gioco è un pochettino più basso. Ma tutte le volte che sento dire è la preparazione atletica e non corrono, no, è che è un discorso fatto su 380 gradi, è come il secondo tempo, quando fai un primo tempo dove ti annullano 3 gol, prendi due pali, ne fai solo uno, è normale che secondo soffri, perché poi la bombola la finisci, perché Rabia ha giocato 270 minuti, Locatelli anche, Danilo tra le nazionali, Ide, Bremer, Ure, cioè, sono umani, e se non hai uno sviluppo... Abbiamo fatto un primo tempo moderno, un secondo tempo antico, mi parli capito. Sì, perché sei andato fuori giri, perché non l'hai chiusa, ma almeno la mia impressione... Però al sessantesimo entrano dentro, scusami, due Fiorentina, Ildiz e Ilin, che sono due giovi. Esatto, ma se il baricentro della squadra non riesce a sostenere, no, il lavoro di Vlaovic, Vlaovic sbaglia le sponde, Rabia non accorcia, Rabia è stanco, c'è un'azione, mi viene in mente, dove Nico Gonzales punta Danilo, lo salta e poi fa una cosa allucinante che tira in rimessa laterale, ecco lì, Rabia va in una pressione isolata alta, non ha la forza di ripartire, la squadra non lo segue, e allora si aprono degli spazi, queste cose qua. Ma quando non chiudi le partite, capita spesso, quando non chiudi le partite, poi il secondo tempo diventa un secondo tempo di sofferenza. Qual è stata, Claudio, la più grande partita dolorosa per tutti noi, dove la Juve va fuori giri, dove fa un primo tempo dove voleva e ambiva ad essere in vantaggio, e poi è andata fuori giri, Cardiff, Cardiff, Cardiff la Juve fa un primo tempo di livello alto, eppure però poi il secondo tempo, Real Madrid col possesso palle a farci correre a vuoto, sappiamo com'è andata, non voglio poi andare avanti perché è ancora una ferita aperta, ma è Cardiff. Non mi tirare fuori questi brutti ricordi, perché poi da lì secondo me cambia un po' tutto, e ce lo trasciniamo fino ad oggi, al di là di quello che è successo fuori dal campo. Quindi scusa, caro mio Camillo, perché qua, allora intanto oggi lo dico a tutti, aggiornamento del borsino, perché sai che interessa solo quello, non c'è Allegri out 100%, Allegri in 0%, Tiago Motta in 100%, Antonio Conte variabile, qualcuno vorrebbe, cioè la situazione è nebulosa, può succedere, Come a Torino. Esattamente, come a Torino, può succedere di tutto, del domani non vi è certezza, può succedere di tutto, in un senso o nell'altro, quindi non c'è che tirano fuori le percentuali bulgare. Detto questo, indipendentemente da chi sarà l'allenatore del futuro, cioè tu vuoi dirmi che se io non prendo Rodrigo e Foden, tanto per prendere i primi due nomi che ci sono venuti in mente, e prendo Felipe Anders, non mi cambia nulla. Oggi vedo Alvaro Morata a terra, il ritorno, il mesimo di Morata. Tu sai che io Morata lo facisco, tu lo sai, tutti gli anni io vivo dei momenti di disastro, perché non lo sopporto più, basta, si vive anche oltre Morata, c'è 100 milioni di giocatori, per favore. Però quello che ti voglio dire è, per me non devi pensare a un mercato da Champions. Io accetto Felipe Andersson, perché mi serve un interprete del campionato, mi serve quel giocatore che dalla panchina, gli ultimi 20 minuti, ogni tanto mi fa 60 minuti, mi fa quei 4-5 gole, 5-6 assist decisivi. e lui per me in Serie A ancora può darti questo. Poi devo capire ancora, parlo a tempo debito, quando ci sarà l'ufficialità, la questione anche dell'ingaggio, come verrà pagato, se ci sono delle cose che agevoleranno la Juventus per fare questo tipo di investimento, però comunque ti voglio dire, è un giocatore che può dare esperienza, perché è una certezza della Serie A. Io lo accetto anche, ma per me il mercato va fatto per vincere lo scudetto. Come ti ho detto, la Champions League ad oggi è una chimera, deve essere vista come facciamo il nostro. E poi una volta che viene qualcosa in più, sono contento, ma quel ritmo e quella tecnica in Italia non esiste. Quanti giocatori dobbiamo prendere? Quanti ne dobbiamo prendere per vincere lo scudetto? Per vincere lo scudetto, secondo me devi prendere tre giocatori di esperienza e poi riportare a casa, fare un grande acquisto sulle Ehausen. Ho capito, stai rinunciando a Bremer, perché questo ruota se tu rinunci a Bremer. Ho Bremer, ho chiesto, come ti dico sempre. Ho già il titolo, sacrificio Bremer per lo scudo. Bremer sacrificato sull'altare dello scudetto. Ok, in verità ti dico la mia. Per me questa squadra deve partire da Szczesny, Bremer e Vlaovic. Questi tre. Quindi sacrifico a Chiesa. Mi hai fatto la colonna vertebrale senza il punto più delicato, il centrocampista. Perché per me, per me, lì si deve intervenire in maniera massiccia. E lì viene fuori, ma non è giusto fare nomi, ammesso del piacere o non piacere, con Minas, alcuni giocatori, Ferguson, fino a quando non ci sarà la chiarezza sull'allenatore, io lì non dico un nome. Perché se devo fare un investimento a 50 milioni di euro, voglio che Allegri, Tiago Motta, Camillo, Claudio, dicano, sì, lui mi piace, lo vorrei, lo voglio a tutti i costi. Così, perché quello è un investimento. Felipe Anderson, se Allegri se lo tiene in dote, farà con Felipe Anderson, come ha fatto nel corso degli anni e con tanti altri giocatori. Idem, chi sarà, se saremo io e te, come un duo spaziale per guidare la Juventus, faremo di necessità virtù. Però, gli investimenti vanno fatti con il benestare dell'allenatore. ma ovviamente, se devo partire da quelli che ho in rosa, tre. Non rinuncio mai a questi tre. Bremer, Blaovic e Schettin. Camillo, vinciamo il derby, sì o no? Questo per uno scaramantico come me mi fa paura, mi fai malissimo. Io ti dico, guarda i miei occhi, da sognatore, da appassionato e credi nella scaramantia. Ma cosa hai capito? Io parlo del derby giornalisti. Cosa me ne frega di quell'altro? No, quello lo vinciamo. Te lo prometto qua, te lo faccio vincere. Molto bene. Te lo faccio vincere. Molto bene. Se non vinciamo, ti veniamo a prendere. Grazie Camillo. Alla prossima settimana. Abbiamo sentenziato anche oggi, quindi iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.